La settimana dello sport nasce dalla volontà di coinvolgere tutte le attività locali che abbiamo presenti sul territorio cercando di promuovere tutte quelle che sono le potenzialità turistiche di un territorio come quello di Multigrimano Terme che può fare come suo tesoro e l'outdoor può fare come suo cavallo di battaglia la promozione di quelle che sono tutte le attività fisiche. Qual è la nostra idea? È quella di coinvolgere in primis i nostri cittadini proprio di Multigrimano Terme ma chiaramente allargarci dalla vallata del Conca, la Repubblica di San Marino, tutto quello che è il territorio di Montefeltro non perché puntiamo al loro turismo e basta ma perché speriamo che diventino i nostri primi ambasciatori in Italia. Cioè nel momento in cui un cittadino di Multigrimano come un cittadino di Mercatino Conca o di Carpegna vive un'esperienza emozionante nel nostro comune la racconterà raccontando quello che ha vissuto da noi diventa appunto un nostro portabandiera, diventa un nostro ambasciatore di quelle che sono le potenzialità di un territorio così ricco di verde, di green in generale dal punto di vista della qualità della vita. Ecco da lì abbiamo unito quello che è l'altro nostro obiettivo presentare soprattutto alle fasce più giovani tutte le possibili attività sportive che si possono fare. L'evento principale della settimana dello sport, domenica 26 maggio, l'evento di chiusura della settimana che si chiamerà Gran Fondo la Via dei Borromeo, che è un evento che fa parte di due circuiti nazionali di mountain bike e che al momento ha già 400 partecipanti confermati. Quindi un evento di chiusura di una settimana molto ricca che coinvolge tutte le associazioni locali e si partirà sette giorni prima il 19 di maggio con tre iniziative tutte nel territorio. Iniziativa a cavallo, partite di calcio e un trekking all'interno del comprensorio del Monte San Paolo che è un comprensorio che in questi anni è cresciuto molto con il lavoro di tutte le associazioni e le proloco locali e allo stato attuale conta oltre 30 chilometri di sentieri percorribili sia a piedi, in bicicletta che a cavallo. Monte Grimano Terme è il 25esimo comune dell'itinerario della bellezza che ha deciso di entrare nel nostro progetto di promozione turistica a tempo scaduto, nel senso che non è presente nella guida del 2024 ma è presente in tutte le iniziative di promozione e di comunicazione che stiamo facendo. È un luogo per noi molto importante perché fa parte del Monte Feltro ma è al confine con la Romagna e al confine con la Repubblica di San Marino. Con Monte Grimano Terme peraltro noi completiamo quasi l'area del Monte Feltro storico all'interno dell'itinerario della bellezza insieme a Carpegna, Macerata Feltro e Sasso Corvaro. Manca ancora un altro comune che penso entrerà nel progetto il prossimo anno. Quindi è un'iniziativa importante per dare vitalità a questo centro che domina la valle del fiume Conca, è un centro molto bello che merita l'attenzione anche da parte dei marchigiani che probabilmente non conoscono questo lembo estremo della nostra provincia.